Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta. Confronto acceso stamane all'ex provincia di Ragusa tra i dipendenti e il commissario straordinario e i lavoratori preoccupati per il loro futuro alla luce delle ultime notizie che giungono da Palermo oggi hanno voluto incontrare Carta Bellotta. La MT, l'azienda municipalizzata dei trasporti di Catania, sta vivendo una situazione complicata. È previsto uno sciopero di 24 ore giorno 19 settembre. Lieto fine per la famigliola di Caprette tibetane condannate a morte per un cavillo burocratico. il sindaco di Modi che Ignazio Abate ha dichiarato inoltre che adesso si muoverà per l'affido della famigliola al dottore Adamo. Marina di Ragusa dice addio all'estate domani come da tradizione. Il gruppo editoriale Radio Video Mediterraneo seguirà l'evento live con la conduzione di Salvo Larosa e Carmela Minardo. 17 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con una nuova edizione del nostro telegiornale. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori. Lo avete ascoltato dai titoli. In apertura parliamo dell'accesso di battito che si è tenuto questa mattina nell'ente di Viale del Fante perché i lavoratori sono preoccupati per il loro futuro e hanno rappresentato tutte le preoccupazioni al commissario straordinario Cartabellotta. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Carmela Minardo. Preoccupati, sfiduciati ed arrabbiati, i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa stamani hanno voluto incontrare il commissario straordinario Dario Cartabellotta. Le notizie che arrivano da Palermo non preannunciano nulla di buono. Sono 347 al 31 dicembre i lavoratori in forza all'ente. Non si dica che qua ormai non si fa niente perché tanto alla fine. Non è assolutamente vero perché noi continuiamo a fare giornalmente il nostro lavoro. Voi parlate dei disabili. I disabili, noi comunque il lavoro, quello di accreditamento degli enti che devono fornire il servizio, questo si sta continuando a fare. Le famiglie vengono qua a fare le domande perché noi aspettiamo veramente. Noi abbiamo voglia di dare questo servizio. Il problema è che i soldi per coprire i servizi ma anche i nostri stipendi purtroppo non ci sono. L'amministrazione ha dato anche una soluzione. I dirigenti hanno dato una soluzione. Di andare a svincolare dei fondi di investimento che sono vincolati e spostarli in spesa corrente. Questo ce lo dà la normativa nazionale, la finanziaria 2016, che ci dà la possibilità agli enti in difficoltà di poter sbloccare queste somme. A rischio non solo i servizi essenziali come l'assistenza agli studenti disabili che frequentano le scuole di competenza del libero consorzio, ma anche gli stipendi. Non è praticabile neppure la strada dell'anticipazione di cassa visto il disavanzo di bilancio dell'ente. Il defo è dietro l'angolo. Per salvare le ex province siciliane, così come stabilito nel corso della riunione ANCI, mancano all'appello 120 milioni di euro. Le province attendono ormai da tempo la ripartizione dei 18 milioni di euro destinati agli enti, a cui si aggiungeranno i 9 milioni previsti nella manovrina all'esame dell'ARS, ma che comunque restano insufficienti a rimettere in equilibrio i conti delle ex province per l'anno in corso. È chiaro che la situazione è molto critica perché il piano di riparto non prevede quelle somme che sono necessarie e sufficienti per coprire il bilancio 2016. L'ente ha dovuto purtroppo segnalare questa situazione di criticità, di squilibrio finanziario alla Corte dei Conti. La settimana prossima è chiaro che con l'approvazione da parte dell'Assemblea regionale della manovra finanziaria si definiranno le risorse che sono a disposizione di questo ente, dopodiché potremmo dire realmente come stanno le cose. Vorrei ricordare a tutti che le somme dello Stato, che lo Stato piglia dalle province siciliane, e nelle prossime ore credo che sarà stato fatto proprio un mandato di quello che è il prevedo forzoso, i soldi da Ragusa andranno verso lo Stato, purtroppo dallo Stato noi non riceviamo più nulla perché le somme, anche quelle per i disabili, si fermano a Reggio Calabria. Questo credo che devono sapere i cittadini, questo lo devono anche ricordare i deputati nazionali e regionali. E' morto questa mattina a Roma Carlo Azeio Ciampi, aveva 95 anni, nato a Livorno nel 1920, è stato Presidente della Repubblica dal 1999 al 2006. E' stato anche per 14 anni Governatore della Banca d'Italia e Presidente del Consiglio nel 1993. Ciampi era ricoverato da alcuni giorni nella clinica Pio Undicesimo, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo conferma a Lanza il professore Andrea Platania, primario medicina interna, che lo aveva in cura. Sono con la famiglia, ha affermato Platania, che in questo momento chiede riservatezza. L'ex Presidente della Repubblica fu eletto il 13 maggio del 1999, record assoluto di velocità, solo due ore e 40 minuti per far partire il settennato dell'ex Governatore della Banca d'Italia. Un solo scrutinio, prese 707 voti su 990 votanti. Sulla sua candidatura, accordo trasversale tra Veltroni, Fini e Berlusconi. Chiedono il saldo del mese di agosto gli operatori ecologici del Comune di Acate, oltre ai pregressi già maturati. Una situazione oramai insostenibile da parte dei lavoratori e incontrollabile da parte della FPCGL di Ragusa, si legge nella nota, che proclama un giorno di sciofero che sarà effettuato per tutta l'intera giornata di martedì 27 settembre. Un presunto caso di tubercolosi al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica al centro della lettera che Antonio Firullo ha scritto al Ministro della Salute Lorenzin. Firullo fa riferimento ad un immigrato che sarebbe stato trattenuto nella sala di attesa del pronto soccorso insieme ad altre persone, senza che venissero attivate le procedure di protezione. Ma il tutto viene smentito dal Vice Direttore Sanitario del Nosocomio Modicano, Giuseppe Borgese, che invece evidenzia come il protocollo in caso di malattie infettive viene immediatamente attivato. Ce ne parla il Direttore Catiuscia Carpentieri. Le procedure per le patologie di malattie infettive al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica vengono regolarmente rispettate, mettendo in pratica il protocollo previsto in questi casi. È la risposta del Vice Direttore Sanitario dell'ospedale modicano Giuseppe Borgese a quanto scrive Antonio Firullo dopo aver appreso che lo scorso fine settimana un immigrato sbarcato a Pozzallo era stato trasportato al Nosocomio Modicano con sospetta TBC. L'immigrato, inoltre, scrive sempre Firullo, è stato trattenuto nella sala di attesa del pronto soccorso insieme alle persone presenti per le cure richieste. Per Firullo si tratta di un fatto gravissimo che mette in evidenza l'emergenza in cui versa la sanità a Iblea su questo problema. A prescindere dalle persone che si presentano al pronto soccorso, continua la nota, si evince come non esista una stanza di isolamento nella quale il degente possa essere assistito inizialmente per poi essere trasferito nel reparto specifico. Quest'ultima notizia però viene smentita dal Vice Direttore Sanitario Borgese. Il protocollo, dichiara il medico, contattato da noi telefonicamente, viene eseguito immediatamente. Sono più di 200 al giorno le persone che giungono al pronto soccorso con patologie infettive e i medici, una volta diagnosticata la malattia, attivano immediatamente il protocollo facendo indossare le mascherine al paziente e spostandolo in una stanza dove resta da solo in attesa di essere trasferito nel reparto di malattia infettiva. Dunque, conclude Borgese, tutte le procedure di triage ed isolamento vengono eseguite subito. Tra l'altro, tiene a precisare il Vice Direttore, i migranti vengono sottoposti ad un primo controllo medico appena giungono al porto di Pozzallo e di conseguenza, se gli viene diagnosticata una patologia infettiva, il paziente viene immediatamente isolato e trasferito in ospedale dove i medici già sanno cosa fare. La lettera di Antonio Firullo è stata inviata al Ministro della Salute e per conoscenza alla Procura di Ragusa. Firullo chiede alla Lorenzin di accertare quanto da lui esposto e nel caso di provvedere con immediatezza affinché venga tutelata la salute dei cittadini. E torniamo a parlare del nuovo piano sanitario regionale perché interviene il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, invitando a smettere di fare polemica, ma invece adesso, si legge nella nota firma di Crocetta, è il momento di avviare un compronto costruttivo. Il Governo regionale non intende operare nella logica dei tagli ma per il potenziamento dell'offerta sanitaria e per il rafforzamento delle strutture mediante la loro riorganizzazione e quanto sostengono il Presidente della Regione, Rosario Crocetta, e l'assessore regionale alla Sanità, Baldo Gucciardi, in merito al piano sanitario che in questi giorni fa tanto discutere. Nelle nostre linee di piano, dicono Crocetta e Gucciardi, la Regione siciliana è l'unica regione italiana che ha operato la scelta condivisa dal Ministero della Salute degli ospedali riuniti che di fatto ha impedito la chiusura di tante piccole strutture. Su questo vogliamo essere chiari se i tanti piccoli ospedali, alcuni in zone di forte disagio, non hanno chiuso e perché noi ci siamo opposti, dicono Crocette e Gucciardi. L'ipotesi non è quella delle chiusure ma di un rafforzamento dei presidi con la specializzazione dei medesimi e la realizzazione di una rete che possa offrire in un territorio tutti i servizi diversificati e di alta qualità, indispensabili alla salute dei cittadini. Svendiamo dunque, continuano Crocette e Gucciardi, categoricamente che sia stato approvato da Governo e Assessorato un piano di dettaglio sulla rete ospedaliera. Le ipotesi tecniche, aggiungono, derivanti dall'applicazione semplicistica del decreto Balduzzi, non ci appassionano. L'assessorato alla salute sta sentendo tutti i manager. Nei prossimi giorni si avvierà un confronto collegiale con i medesimi e il Governo rappresenterà che la logica dell'azione sanitaria non dovrà riguardare solo i grossi centri ma anche le periferie e i piccoli comuni. Ci sono criticità derivanti dai tagli ma abbiamo avuto rassicurazioni dal Governo nazionale che ci sarà grande rispetto per la Sicilia in relazione alla qualità dei servizi. Crocette e Gucciardi aggiungono ancora è urgente inoltre far partire concorsi che non possono continuare a rimanere bloccati. Su questo abbiamo aperto un proficuo confronto col Governo nazionale che come noi si rende conto dell'impossibilità di offrire servizi di alta qualità in presenza di carenze inaccettabili nelle piante organiche. Il Presidente della Regione e l'assessore alla Sanità, si legge nella loro nota stampa, continuano dichiarando abbiamo un obiettivo, quello di elevare la qualità dell'offerta sanitaria abbiamo già raggiunto grandi risultati ma vogliamo crescere ancora con una corretta programmazione nei territori senza una logica di accentramento bensì di una diffusione territoriale ampia ma di qualità. Dopo questa nostra presa di posizione, concludono Crocette e Gucciardi, si ponga fine alle polemiche e si avvii un confronto necessario che porterà ad una razionalizzazione e condivisione delle scelte. Dovrebbe riprendere già lunedì il servizio di assistenza agli studenti disabili delle scuole medie di Vittoria a comunicarlo e la Commissione Cultura e Istruzione fa seguito questa comunicazione ad un'interrogazione presentata da una consigliera. Sentiamo Carmela Minardo. Cosa sta facendo l'amministrazione comunale di Vittoria per l'assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap che frequentano le scuole materne, elementari e medie? Ha porsi il quesito il consigliere comunale Sara Siggia di Astag Nuove Dei Democratici dopo aver partecipato alla Commissione Cultura e Istruzione. Il Comune ancora oggi denuncia la Siggia non ha provveduto ad un bando di gara per procedere all'attivazione dell'importante servizio che da sempre è stato attenzionato dalla precedente amministrazione. Sono circa 90 gli alunni con disabilità grave e meno grave che fino allo scorso anno hanno sfruito di questo servizio. Le famiglie vanno sostenute e vanno aiutate. Secondo il Presidente della Commissione, Toti Miccoli, il servizio di assistenza a scuola è già attivo, manca solo quello del trasporto. Il Comune si sta attivando con l'acquisto di un pulmino. Nel corso della riunione, infatti, sono stati predisposti i servizi scolastici che partiranno il prossimo lunedì, così come annunciato dal consigliere Stefano Frasca di Selami, la Cambi, con un comunicato. Il servizio consentirà il trasporto per gli alunni delle scuole elementari e medie che abitano nelle zone periferiche. Sulla rifezione scolastica nelle scuole materne, prosegue ancora il consigliere, si sta pensando di poter utilizzare prodotti a chilometro zero, mentre la quota richiesta alle famiglie varierà in base al reddito. Giornata di mobilitazione per i lavoratori dell'ODA, opera diocesana di assistenza. I dipendenti hanno subito dei trasferimenti con ripercursioni sugli assistiti, tra cui anche bambini con disabilità. Ce ne parla Sara Donzuzu. Se un accordo si è trovato per quel che riguarda gli stipendi con un'erogazione quasi puntuale, lo stesso non si può dire per gli altri problemi che attenaiono i lavoratori dell'ODA, l'opera diocesana di assistenza, che hanno subito, senza essere ascoltati, trasferimenti da una parte all'altra, con danno soprattutto per gli assistiti che, avendo delle disabilità, vedono nell'operatore un punto di riferimento che all'improvviso viene a mancare. Per questo il sindacato USB ha promosso per oggi una giornata di mobilitazione e ha deciso di rivolgersi al giudice del lavoro. Abbiamo promosso prima i tentativi di raffreddamento, la giornata di assenzione oggi e in più abbiamo formulato un ricorso articolo 28 al giudice del lavoro e proseguiremo su questa strada. Se il giudice del lavoro darà ragione a loro, amen, ok, abbiamo sbagliato, ma credo proprio che non possa darlo perché i riferimenti di legge ci sono, se il giudice del lavoro darà ragione a noi, ovviamente loro dovranno obbligatoriamente fare un passo indietro. Entro nel merito dei trasferimenti. Abbiamo osservato delle stranezze. I ribiditatori, soprattutto questa figura, sono i lavoratori che hanno delle professionalità particolari. quando vengono spostati tra una struttura o un'altra, siccome non parliamo la loro attività, loro la rivolgono all'utenza particolare, quando vengono trasferiti si vedono utenti completamente diversi. Il vecchio utente che si vede sparito il riferimento, perché il riabilitatore è un riferimento, siccome soprattutto sono bambini, ovviamente reagiscono in maniera negativa. Di tutto questo aspetto, l'ente committente che è l'ASPE interessa o non interessa, perché anche l'ASPE è stato convocato all'ispettore del lavoro, e noi si sono presentati dicendo che per loro è un problema interno. Ore di attesa alle fermate, mezzi oramai obsoleti, sono alcune delle caratteristiche che palesano la situazione di difficoltà della AMT di Catania. Adesso arriva anche una giornata di sciopero. Ancora un anno chiuso in perdita, circa 5 milioni di euro che mancano, che si aggiungono ai debiti già accumulati. L'AMT insomma è in grave crisi e a pagarne le conseguenze, così come evidenzia il sindacato, Faisa Cisal sono i lavoratori e gli utenti, costretti a stare anche ora alla fermata per attendere i mezzi, che tra l'altro sono in numero ridotto. Se l'MT continua così, i scenari non sono certo dei più rosei. Per questo i sindacati confederali rigettano l'accordo siglato tra la stessa MT e CGL, Cisle Will e UGL. Troppo questo è il risultato di un management fallimentare e siamo in attesa del nuovo management che dia veramente un rilancio a questa azienda, ma allo stesso tempo sia il comune che la regione devono fare la loro parte. Un'azienda senza liquidità non va da nessuna parte. Noi come organizzazione sindacale ci siamo prefissati degli obiettivi importanti, che sono la tutela del posto di lavoro dei lavoratori e un servizio per i cittadini. Questa a Catania in questo momento sta mancando, l'abbiamo denunciato più volte. Giorno 19 ci sarà uno sciopero di 24 ore. Purtroppo ci scusiamo con l'utenza, ma non possiamo fare altro. Anzi, chiederemo ai cittadini catanesi di darci una mano, perché un'amministrazione comunale, una città metropolitare, non può stare senza servizio pubblico. Le proteste oltretutto nascono perché i cittadini non possono continuare a pagare gli sbagli degli altri, ma la cosa più grave è che i lavoratori si sono visti vessati da parte del Bane, il Regimento Aziendale, per un'applicazione strana e assurda di un contratto nazionale che prevede, secondo loro, di togliere dei requisiti ormai, dei dati di fatti, delle leggi acquisite nel tempo, tipo la 104 donazione sangue, che sono degli eventi importanti, sono delle cose per la socialità. Cosa ha fatto l'azienda? Ha obbligato gli autisti a fare lo straordinario e poi gli ha tolto dalle buste paghe i soldi dell'essenza per la donazione sangue, le malattie, cioè delle cose assurde. 290 milioni di euro sono stati inseriti nel patto per la Sicilia per il completamento della Siracusa-Ragusa-Gela. La notizia arriva dal presidente del CAS, Rosario Faraci. Il Consiglio, scrive Faraci, dopo aver avviato i cantieri dei Lotti 6, 7 e 8 della Siracusa-Gela, il tratto Rosolini-Modica, ha riaperto con decisione il problema del completamento di questa importante autostrada necessaria per lo sviluppo di quella grande area geografica. Una volta definiti atti, procedure, convenzioni e quant'altro necessario per rendere esecutivi i finanziamenti del patto per la Sicilia, sarà cura del CAS procedere alla fase applicativa e quindi ai relativi appalti. Nel frattempo, conclude Faraci, si sta operando a tutti i livelli per mettere in atto un unico soggetto preposto alla gestione delle autostrade in Sicilia, oggi divise tra ANAS e CAS. È tornato a riunirsi il Consiglio Comunale di Ragusa a Palazzo dell'Aquila, dove l'opposizione si è scagliata contro la maggioranza. Scopriamo il perché in questo servizio. Più che l'argomento è l'ordine del giorno, attività ispettiva. Ieri la riunione del Consiglio Comunale di Ragusa è stata incentrata sui numeri della maggioranza pentastellata. Ci sono i numeri per poter continuare a governare? Ieri il Consesso ha potuto lavorare perché non era necessario il numero legale. 14 erano i consiglieri presenti su 30, pochissimi quelli del Movimento 5 Stelle. Dopo l'approvazione degli strumenti finanziari che ha visto i pentastellati ricompattarsi, si torna a fare la conta. E i numeri sono contrari alla maggioranza. L'ultima arrivata, Maria Rosa Marabita, che sostituisce Di Pasquale, dimessosi nei giorni scorsi, fa parte del Meetup 5 Stelle, gruppo che ha contestato l'operato dell'amministrazione. Io intanto faccio parte del Meetup Ragusa Attiva 5 Stelle. Quindi dissidente... è sbagliato il termine. Cioè io difendo, io e il mio gruppo difendiamo i principi del Movimento 5 Stelle. Quindi i principi e il programma. Cioè ci abbiamo lavorato tutti, ognuno con le sue competenze. E si è fermato là sulla carta. E non condivide quanto fatto dall'amministrazione? Pochino, pochino. Non mi faccia sbilanciare. Pochino, pochino, pochino. Tanto tutti sapete le cose che abbiamo scritto come Ragusa Attiva 5 Stelle. Quindi si deve lavorare per il bene della città. A fondo alla maggioranza anche dal gruppo Insieme che ieri ha contestato l'esigua presenza dei consiglieri grillini. È un'assenza che registriamo ogni volta. Purtroppo in Consiglio Comunale la maggioranza che sostiene il sindaco Piccitto all'inizio era una maggioranza corposa, importante, di 20 consiglieri che via via si sono sfaldati. Adesso si contano appena in 14, forse 15. Adesso l'innesto dell'ultimo consigliere, il consigliere Marabita, pare che vada nella direzione della diversità rispetto a quella che è l'assonanza del Consiglio Comunale nei confronti del sindaco Piccitto. Evidentemente i consiglieri del Movimento 5 Stelle si sono accorti che le cose che andiamo oramai ripetendo da troppo, troppo tempo sono verità e fatti incontrovertibili. Il sindaco d'accanto suo minimizza nessuna implosione all'interno del Movimento ma solo vivace dialettica. Ho sempre detto che ci sono dissidenti, ci sono persone che chiaramente vedono criticamente le cose, ho sempre detto che c'è un dibattito interno che è vivo, che è presente, che fa parte della politica ma fa parte soprattutto del modo in cui noi siamo. Siamo una struttura come un movimento molto liquida, un movimento orizzontale e quindi è normale che da questo punto di vista noi abbiamo delle dinamiche che magari altri non hanno o che per noi sono più visibili di quanto possono essere visibili nei partiti tradizionali. Ma da questo diciamo a parlare di crisi o di implosione o di situazioni drammatiche, insomma a mio avviso ne passa. Noi discutiamo sempre di tutto, ci confrontiamo anche su visioni diverse ma la linea guida è il programma elettorale per cui siamo stati eletti. La cronaca, sono stati arrestati quattro scafisti a Pozzallo. Sono stati arrestati gli scafisti dello sbarco avvenuto a Pozzallo la notte tra mercoledì e giovedì. Si tratta di un 25enne tunisino, di un suo connazionale di 37 anni, un ventenne della Guinea e un senegalese di 29 anni. Ad essere determinante per la loro cattura è stato il contributo fornito dalle testimonianze dei migranti. Quest'ultimi, provenienti dal centro Africa, sono stati ospitati presso l'hotspot di Pozzallo per essere visitati, identificati e trasferiti in altri centri. Il gruppo era stato intercettato intorno alle 11 di mercoledì dal personale a bordo della nave 18 CP941 della Guardia Costiera italiana che li aveva poi soccorsi su di un gommone. Dopo pochi minuti la stessa imbarcazione della Guardia Costiera ha avvistato un altro gommone e di seguito altri ancora fino a soccorrere complessivamente 656 persone. Al termine delle formalità di rito i quattro scafisti sono stati condotti presso il carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria Eblea impegnate in prima linea sul fronte dell'immigrazione. Sono ormai quotidiane infatti le udienze di incidente probatorio e quelle che portano alla condanna degli scafisti rispettivamente per la ulteriore cristallizzazione in sede processuale della prova anche ai fini dibattimentali. A riguardo, molte sentenze di condanna sono state espletate dall'autorità giudiziaria Eblea. Nel 2016 sono 148 gli scafisti fermati in provincia di Ragusa. Ancora cronaca, arriva un nuovo arresto per Franco Mormina e Salvatore Cirica. Ancora reati scoperti a carico di Franco Mormina e Salvatore Cirica. Ad incastrarli sono state le immagini di video sorveglianza di una struttura che avevano preso di mira per compiere furti. I carabinieri di Ragusa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Ragusa nei confronti del 38enne Franco Mormina Ragusano e di Salvatore Cirica, 21enne vittoriesa. I provvedimenti cautelari richiesti dal sostituto procuratore Monica Monego e disposti dal GIP Andrea Reale sono il risultato delle indagini avviate da carabinieri a seguito di diversi furti in abitazioni e attività commerciali ublicate nel quartiere barocco di Ragusa Ibla e nel centro storico della città Iblea e vanno ad aggiungersi a reati che avevano fatto scattare il loro arresto in flagranza di reato da parte della Polizia di Stato. Nello specifico, gli episodi di furto contestati agli arrestati sono uno in band and breakfast nel corso del quale sono stati asportati quattro televisori, vari pezzi di arredamento e la somma di 1.500 euro in contanti. Un altro in negozio nel corso del quale sono stati rubati quattro tablet, un pc portatile e 14 borse da donna e l'ultimo compiuto in un bar nel corso del quale i malfattori asportavano decine di bottiglie di alcolici. Particolare non di poco è anche che gli stessi erano stati appena rimessi in libertà dopo che, nei giorni scorsi, erano stati arrestati in flagranza di reato per un altro furto che avevano commesso e se non fossero stati nuovamente sottoposti a misura cautelare probabilmente avrebbero ripreso le loro attività criminose. E' stata una chiamata al 113 a segnalare che un uomo stava distruggendo i pannelli della mostra in corso in via Roma a Ragusa. E' stato bloccato nella notte dagli uomini dell'ufficio volanti della Questura, un albanese che ha distrutto alcuni dei pannelli della mostra di architettura sul ponte nuovo. L'uomo in preda ai fumi dell'alcol e probabilmente adirato per un diverbio avuto poco prima ha distrutto a pugni tre litografie. Il giovane condotto presso gli uffici della sezione volanti della Questura di Ragusa è stato fotosegnalato e dagli accertamenti è emersa la sua posizione irregolare sul territorio nazionale. Il ragazzo a 22 anni è stato denunciato per danneggiamento aggravato e a suo carico è emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale. Ruba la scopa al suo collega che denuncia il furto contro ignoti. La polizia locale di Modica risale all'autore tramite le immagini di videosorveglianza dell'esercizio commerciale in cui l'operatore ecologico aveva appoggiato la scopa per andare alla toalette. Quando era uscito la scopa non c'era più. Dai riscontri visivi è emerso che un collega dell'operatore vittima dopo essere sceso da un autocompattatore dello stesso servizio con destrezza si è avvicinato al posto dove era stato appoggiato l'attrezzo da lavoro e dopo averlo prelevato velocemente lo ha portato via. L'autore del furto è un cinquantenne. Sono le 14.43 minuti ci fermiamo per la pausa pubblicitaria ma torneremo subito dopo per parlare di tanti altri argomenti. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale è stato ricordato a Palermo Don Pino Puglisi. Prima la messa in cattedrale a Palermo e poi una festa con tre P come amava firmarsi padre Pino Puglisi a distanza di 23 anni dalla sua morte per mano della mafia. Un corte in preghiera dalla parrocchia di Santa Maria della Pietà in via Torremuzza luogo del battesimo che illuminato dalle luci delle fiaccole ha raggiunto il luogo della sepoltura all'interno della cattedrale dove l'arcivescovo Monsignor Corrado Lorefice ha celebrato la messa. Fino a quando ci saranno uomini di buona volontà disposti a dare la loro vita ha ricordato l'arcivescovo è chiara la testimonianza di Dio ad amare uomini e donne nonostante il male prodotto dagli uomini quando il loro cuore si indurisce. Una serata partecipata è ricordo del prete ucciso da Cosa Nostra per aver cercato di offrire una luce nuova ai giovani del quartiere Brancaccio per allontanarli dalla manovalanza mafiosa. Presenti Don Luigi Ciotti fondatore di Libera il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone il presidente della commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi il sindaco Leoluc Orlando il questore Guido Longo il prefetto Antonella De Miro e le autorità civili e militari. Per volere dell'arcivescovo Lorefice anche una manifestazione sul piano della cattedrale la festa con tre P nata con l'intento di conciliare musica danza e poesia. Tra i partecipanti tantissimi giovani studenti volontari di Libera e un gruppo di ragazzi detenuti del carcere minorile di Trapani. Felice epilogo per le sette caprette condannate a morte per un cavillo burocratico perché il sindaco di Modi che Ignazio Abbate le ha graziate sentiamo i particolari in questo servizio. Tutto bene quel che finisce bene le sette caprette condannate a morte non verranno macellate ad assumersi l'impegno di salvarle di affidarle al dottore Vincenzo Adamo e il sindaco di Modica Ignazio Abbate non ho ricevuto le sue lettere gli atti che sono stati disposti sono una conseguenza burocratica al sopralluogo e a quanto dispone la normativa ha dichiarato il primo cittadino di Modica ma le caprette stanno bene c'è una persona disposta a tenerle in un luogo adatto non vedo il motivo di abbatterle ha sottolineato Abbate il sindaco ha garantito che farà di tutto perché quelle caprette siano riconosciute come animali d'affezione e così anche i loro piccoli per intere generazioni la nostra redazione ha presa la notizia della volontà del sindaco se messa in contatto con il dottore Adamo in credulo il medico Modicano ha espresso la propria gioia ai nostri microfoni io veramente sono rimasto come dire sconvolto ed emozionato da questa decisione così repentina che mi è stata comunicata tramite i vostri canali devo dire che sono sorpreso profondamente e positivamente sorpreso di questa decisione e di questa condivisione espressa dal sindaco tramite voi mi auguro e a questo punto faccio una proposta andiamo nella segreteria del sindaco convocati naturalmente da lui sottoscriviamo un atto ufficiale assieme al sindaco per il quale finalmente si dà una carta di identità valida su tutto il territorio nazionale e queste caprette non ci sarà mai nessuno che dirà che essendo sprovviste di carta di identità non possono avere diritto di stare vive su questa terra il caso delle sette caprette condannate a morte per un cavillo burocratico aveva scosso molto la collettività diverse le richieste di informazione su come aiutare il medico pervenute alla pagina facebook ufficiale di video mediterraneo c'è stato chi ha contattato personalmente il sindaco tramite il popolare social network per esortarlo a procedere per la revoca dell'ordinanza e chi invece ha chiamato per suggerire delle strade che avrebbero potuto scongiurare il triste epilogo della famigliola di caprette tra i nostri telespettatori doveroso menzionare leonarda barra vecchia e stefania perotti mi rende felice di avere scoperto questo aspetto quindi è stato un contributo alla salvaguardia dell'amore nella famiglia è tutto pronto per l'addio all'estate per domani sera a marina di ragusa un evento che proverremo live attraverso la conduzione di salvo la rosa e carmela minardo un appuntamento cominciato quasi per caso è divenuto un evento cult per il territorio ebleo capace di suscitare interesse e partecipazione ad ogni parte della sicilia da 26 anni marina di ragusa celebra l'addio all'estate un rito collettivo entrato nella coscienza popolare tre giorni di appuntamenti vissuti intensamente da decine di migliaia di persone con enogastronomia cultura e danza protagoniste e poi in conclusione fuochi d'artificio domani sera il clu della testa dalle ore 19 in piazza Duca degli Abruzzi degustazione dei sapori siciliani all'insegna quest'anno della solidarietà una quota del ricavato sarà devoluta in beneficenza alle popolazioni colpite dal terremoto del centro Italia alle 20 concerto a cura dell'associazione musicale Armida poi spazio all'expo di danza sportiva ad opera della TDS alle 22.30 l'atteso concerto dei Baciamo le Mani fino ai fuochi di mezzanotte a cura di fuochi artificiali tumore e lì a fire walks e arte pirotecnica di Giovanni Trebia l'atteso evento che segna l'addio alla stagione più bella dell'anno sarà ripresa come sempre dalle telecamere del gruppo editoriale Mediterraneo la diretta condotta da Salvo Larrosa e Carmelo Minardo prenderà il via alle 22.30 su video Mediterraneo canale 11 del digitale terrestre ed in HD canale 511 Sicilia Saft e sulla piattaforma Sky al canale 823 ed ancora streaming su videomediterraneo.it i telespettatori potranno interagire in diretta con i conduttori per salutarli in quanto ci seguono all'estero digitando il 331 3461563 preceduto dallo 0039 per chi chiama da fuori Italia un evento che ogni anno attira numerosi visitatori che raggiungono anche con viaggi organizzati Marina di Ragusa da tutta la Sicilia quando ci sono eventi importanti in Sicilia ci siamo anche noi con le telecamere di video Mediterraneo allora vi aspetto sabato 17 settembre a partire dalle 22.30 con la collega Carmela Minardo per quello che è sicuramente uno degli eventi più attesi più importanti più divertenti e più coinvolgenti dell'anno in Sicilia cioè l'addio all'estate a Marina di Ragusa in piazza Duca degli Abruzzi proprio per passare una bella serata con tutti voi fra enogastronomia cultura danza musica e i tradizionali e immancabili fuochi d'artificio e allora non prendete impegni ci vediamo in piazza Duca degli Abruzzi e su Video Mediterraneo su Sicilia Sat e su www.videomediterraneo.it sabato 17 settembre alle 22.30 addio all'estate 2016 Fiori d'arancio per il programma Uomini e Donne ma anche per la provincia di Ragusa perché si è sposata la ragusana Teresa Cilia sentiamo Teresa ricevi quest'anello segno del mio amore e della mia fedeltà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Salvatore ricevi quest'anello segno del mio amore e della mia fedeltà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo hanno coronato il loro sogno d'amore ieri pomeriggio Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono uniti in matrimonio a Palermo nella Chiesa Maria Santissima della Luce a Roccapalumba un paesino in provincia di Palermo dove è nato e cresciuto Salvatore la ragusana ha partecipato due anni fa come tronista alla trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi è proprio lì che Teresa ha conosciuto Salvatore una coppia un amore nato e cresciuto in tv sono passati due anni da quando Salvatore disse il primo sì a Teresa un sì che ieri pomeriggio è stato rafforzato dalla loro unione davanti a Dio il matrimonio tanto atteso dal popolo di Uomini e Donne è stato trasmesso in esclusiva a pomeriggio 5 di Barbara D'Urso tutti i momenti salienti della cerimonia le cui immagini sono state commentate con dei post dei numerosi fan di Teresa e Salvatore direttamente sulla pagina ufficiale dei due protagonisti un amore come detto nato in tv quando Teresa era tronista di Uomini e Donne e Salvatore corteggiatore un trono difficile per Teresa con alti e bassi ma vissuto in pieno con tante emozioni ha lottato fino alla fine per avere il suo Salvatore e ce l'ha fatta una coppia che è riuscita anche a superare le tentazioni di Temptation Island in cui si sono messi in gioco cercando di gestire le loro emozioni e gelosie ma la separazione era così dolorosa che la produzione ha pensato bene di farli incontrare prima del previsto per uscire dal programma più innamorati di prima insomma una delle coppie più amate di Uomini e Donne è stato proprio in quel contesto che Salvatore chiese a Teresa di sposarlo in un clima quasi fiabbesco culminato con una cascata di petali rossi a braccio e baci adesso Teresa e Salvatore sono marito e moglie ieri sera dopo la celebrazione del sacramento gli sposi hanno festeggiato presso il castello Lanza Branciforte di Trabbia circondati da amici e parenti il matrimonio è stato curato sotto tutti i punti di vista da Pantarei di Luca Melilli che ha curato i dettagli dell'organizzazione di tutto il matrimonio un video che ha ripercorso i momenti più belli dello scorso anno culminati con la storica vittoria della prima Coppa Italia e poi una ad una ecco le giocatrici che comporranno il roster della Passalacqua Spedizioni edizione 2016-2017 che prenderà parte per la quarta volta al massimo campionato di Serie A1 di basket femminile e per la prima volta in assoluto all'Euro Cup la presentazione ufficiale della squadra si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri al Consorzio Multifidi di Comiso ed è stata preceduta da una vera e propria festa di basket giovanile domani e domeniche intanto la formazione di coach Gianni Lambruschi sarà impegnata per un doppio confronto amichevole prima della sfida di Supercoppa del 25 settembre che si disputerà al Pala di Schio sono le 14.57 non ci sono ulteriori aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione del nostro telegiornale termina qui grazie per averci scelto e vi ricordo che non appena terminerà la sigla del nostro telegiornale la nostra redazione vuole ricordare il compianto Carlo Azeio Ciampi attraverso l'intervista che fu realizzata in occasione della sua visita nella città di Modica grazie ancora e arrivederci alle prossime edizioni cambia ora l'edizione serale di MTG dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30 nuova veste grafica nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta attraverso l'intervista